Angela Merkel rivendica i meriti del suo governo anche in tema di immigrazione. La cancelliera si è rivolta al Bundestag nel corso di un dibattito sul bilancio per il 2017 e ha di fatto stilato un bilancio del suo mandato. Ha parlato di un calo record della disoccupazione, dei positivi dati economici, ma ha voluto tornare anche su immigrazione e sicurezza, temi che attualmente le costano cari in termini di consenso. Oggi, ha detto, la situazione è molto migliore per tutti rispetto a un anno fa, ma c'è ancora molto da fare. Un grosso problema è quello dei rimpatri, rendere effettive le partenze di quelli che non hanno diritto a restare qui. E giustamente, ha aggiunto, i cittadini si aspettano che aiutiamo quelli che hanno bisogno di aiuto, ma che a quelli che non hanno diritto venga detto di lasciare la Germania. A imporre il tema dell'immigrazione nell'agenda elettorale e l'emergenza migranti, ma più ancora il modo in cui i movimenti come Alternative Fio a Deutschland la sfruttano. Nelle elezioni dello scorso fine settimana, nel Mecklenburg-Foapom, nel movimento anti-immigrazione, si è piazzato al secondo posto. Dietro la SPD, relegando quindi la CDU di Angela Merkel in terza posizione, la cancelliera subisce un'agenda imposta, ma non le conviene sfuggire dal tema. Troppo lunga la campagna da qui all'autunno del prossimo anno, quando si terranno le elezioni federali. Grazie.